In questa video guida parliamo di smerigliatrici angolari. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. La smerigliatrice angolare, conosciuta anche con il nome di Flex, è un utensile portatile utilizzato principalmente per asportare piccole bave, spianare saldature e tagliare elementi in pietra, metallo e legno. A seconda del tipo di impiego per il quale verrà utilizzato, un Flex può avere vari tipi di impugnatura. Queste ultime variano in dimensioni e forma. I dischi utilizzati per la smerigliatrice angolare possono essere di vari tipi. La tipologia di disco che andremo ad utilizzare dipende principalmente dal materiale sul quale andiamo a lavorare. Per il taglio, ad esempio, sono consigliati i dischi diamantati, mentre per la lucidatura ai dischi a spazzole o a lamelle.